Ciao amici, oggi parliamo di un argomento che tutti noi conosciamo bene, fin da bambini, la paura. Vi ricordate? C'era la paura del buio, la paura dei mostri sotto il letto o nell'armadio, la paura dei temporali, il bau bau. Oh sì, che fifa, mi ricordo che fifa il bau bau poi. Eh già, sembravano tutte cose terrificanti, poi per fortuna si cresce e queste paure si superano o si dimenticano. Però la paura non ci abbandona mai del tutto. Da adulti sviluppiamo paure diverse che riguardano per esempio i nostri cari, la salute, il lavoro. In alcuni casi il senso di paura è immotivato, ma è anche così profondo da scatenare reazioni fortissime, chiamate crisi di panico. Ricordo un cliente che venne da me come naturopata per questo motivo. Era un signore sulla quarantina, con una bella moglie, due bellissimi figli, un lavoro importante. Mi confidò che ogni tanto veniva accolto da attacchi di puro terrore. Si sentiva paralizzato, in preda all'angoscia, all'ansia, quasi non riusciva a respirare. Parlando, mi raccontò che questi attacchi sorgevano in apparenza senza motivo, in situazioni di assoluta sicurezza, non davanti a pericoli o rischi reali. Anche a una mia amica succedeva, più volte l'è successo, ma a lui tu cosa hai detto? L'ho aiutato a fortificare il suo stato di salute fisica naturale, come potete fare voi guardando i miei video. E poi gli ho spiegato la mia strategia antipaura e anticrisi di panico. Quando ci siamo rivisti, qualche mese dopo, per un controllo, mi ha detto che stava migliorando gradualmente, che la mia strategia lo stava aiutando moltissimo. E oggi voglio condividerla con voi. Grazie, sì, ma è facile perché, sai, quando ho paura non mi ricordo bene le cose, non mi ricordo niente. Certo, tranquilla, sono cinque passaggi, cinque come le dita di una mano. E sono semplici e alla portata di tutti. Da piccoli ci viene naturale superare le paure. Basta solo un po' di aiuto di un adulto e poi c'è la forza della giovinezza. Poi da grandi nessuno ci aiuta più e non sappiamo come fare. Ma da oggi avrete una strategia in più per paura e crisi di panico. E alla fine vi dirò anche come creare il vostro personale amuleto antipaura. La paura non è un essere alieno, non viene da un altro mondo. Nasce nel nostro mondo interiore. Viene sempre dal passato non digerito. Ed ecco quindi il primo passo per tenerla sotto controllo. 1. Accettate la paura, non rifiutatela. In sé non possiede niente di cattivo. È solo il grido di aiuto mentale di una parte di voi che ancora soffre e chiede di essere capita. Ripetetevi fino ad esserne certi che il panico è una parte di voi adesso. Ma come è venuto se ne può anche andare. 2. Osservate la paura e iniziate a respirare con calma, senza affanno e senza rifiuto del sentimento che provate. Questo è il momento di svolta. È importante fare bene questo esercizio. Allora, rallentate il respiro, ispirando con calma dal naso ed espirando lentamente sempre dal naso. Ma fate in modo che l'espirazione sia più lunga dell'inspirazione. 3. All'esterno, non modificate il vostro comportamento. Continuate a dire o a fare le cose che stavate facendo, come sempre, come se non stesse succedendo niente. Così noi diamo un segnale molto importante all'inconscio. Gli diciamo che non serve manifestare una reazione così forte di paura o di panico. Gli diciamo che lo stiamo ascoltando, che non siamo spaventati nemmeno da lui. Anzi, non sta succedendo niente di strano. È come se i pompieri dovessero uscire per un'emergenza e poi vedere che non è successo niente. Cosa fanno? Tornano indietro, non si attivano. 4. Esercitate la mente ad aspettarvi il meglio, non il peggio. Se la paura è una proiezione di qualcosa che verrà immaginata nel futuro, allora è possibile proiettare situazioni positive, non negative. La nostra mente ha il potere di farlo, come spiego in questo video sulla negatività. 5. Allenatevi a gestire ansia e paura ripetendovi spesso questi passaggi mentalmente, soprattutto quando non avete paura. Più lo fate, più vi sentirete pronti quando capiterà di avere paura o un attacco di panico. Superare la paura vi permetterà di focalizzarvi meglio su ciò che volete essere e ciò che volete fare. Ci vuole impegno, ma la ricompensa è grande. E ora, se vi è piaciuto questo video, ricompensatemi con un bel mi piace. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E iscrivetevi al canale con il solito clic, è facile, e attivate le notifiche. E l'amuleto antipaura come si fa? Per ricordarvi 5 passaggi di questa strategia antipaura e antipanico, ho creato questo fiore a 5 petali. Lo tengo vicino al computer quando scrivo, in macchina quando guido e in borsa quando sono in giro. Soprattutto se devo affrontare delle situazioni che mi mettono paura o ansia. Su ogni petalo possiamo scrivere i 5 passaggi, così accetta, osserva, continua normale, aspettati il meglio e ripeti spesso. Fatelo anche voi, aiuta tanto, tenetelo in vista e se vi chiedono che cos'è, fateli vedere questo video. Anzi, fate di più, siate voi i primi a condividere questo video. E noi ci vediamo presto qui sul canale per tanto altro benessere di corpo e mente, naturalmente. Ciao!